Stai pagando a duro prezzo la tua passività Ti spiego perché Quando sei in un momento di vita in cui devi fare qualcosa Per uscire fuori dalla situazione tremenda Hai due possibilità O stare fermo lì a guardarla Scorrere giorni dopo giorni, tempo dopo tempo O rimboccarti le maniche per cambiarla Quello che oggi la maggior parte delle persone fa È aspettare che le cose cambino all'esterno della propria vita E non all'interno Cosa significa con questo? Che aspettiamo che ci arrivi la chiamata dell'azienda di turno Aspettiamo che qualcuno si renda conto di noi Aspettiamo che qualcuno ci chiami per fare qualcosa insieme O tranquillamente ci accontentiamo dei quattro spiccioli Che riusciamo a recuperare tramite il passaparola Ma tutto questo ti porta solo a fare una vita di precarità Di forse una corsa alla sopravvivenza Questo perché comunque Poi le risorse finiscono Se si ragiona con questi termini di passività E del prendere le cose così come vanno No, le cose non si dice così come vanno Siamo noi che possiamo Dobbiamo rispondere alle cose così come vanno In un certo modo E cambiare i risultati di queste cose Non è che ci sono cose che ti danno i risultati per certo A tutti quanti Perché tutti quanti stiamo vivendo nello stesso pianeta E le cose stanno andando a tante persone a livello comune Ma i risultati che ognuno di noi ottiene E tu noti E ti giri intorno E ti guardi Un po' intorno Vedrai che sono diversi i risultati di ognuno di noi Eppure siamo nello stesso Magari Nella stessa città, provincia, regione, nazione Lo stesso continente Di tanti altri Che hanno anche loro Le cose come dici tu Vediamo come vanno Però Si ritrovano magari ad avere una vita più felice Soddisfatta e attiva E non passiva Questo è l'argomento di cui voglio parlare E come poter portare questa passività in attività Senza crullarci troppo A rimurginare troppo Sulle cose O sulle idee O sui progetti O sulle centinaia, migliaia di riflessioni Che sono stati fatti in questi anni O in questi mesi Da te Da noi Prima di iniziare a fare un passo Quindi Quello che La prima cosa che posso dirti È Quello che ho fatto io negli anni Personalmente Per poter passare da Quello che potrebbe essere uno spettatore Cioè colui che guarda da Dall'esterno Quello che succede in questo mondo E lo osserva Come davanti alla televisione Guardi un film Così guardi il tuo mondo E la tua vita Magari Ogni giorno Come una persona esterna A tutto ciò che sta succedendo Come se non avesse una Funzione attiva Come se non avesse in mano La regia di quello che sta Stesse Stia Stesse stia Non ricordo come si dice È uno dei miei problemi Coniugare bene i verbi Comunque Quello che stia succedendo È come se sta lì a Fare Zapping Con il telecomando E a trovare Delle curiosità Diverse Stimuli Differenti E passarti Così la giornata Sulle continue Diverse Interesse Che ci sono In televisione Così sembra La tua vita Se ancora Ti ritrovi A non avere una vita Felice A livello professionale O personale O entrambi Quindi Questo Continuo Fare lo spettatore Ti ha portato Ad esaurire completamente Le risorse A non avere più Quelle capacità Quelle energie Quella speranza Quella motivazione Quell'entusiasmo Che ti permette Di agire E più lo fai E più continui Ad andare giù Poi magari qualche volta Qualcuno Per Fortuna Destino Quello che Chiamiamo Noi Avvenimento Ti permette Di sollivarti Un pochettino Ma subito dopo Muore E ritorni Nel tuo Accontentarsi Nel tuo Sopravvivere Nel tuo Vivere la giornata Così come vanno le cose Così come vanno le cose Non ci pensare Così come vanno le cose Le cose non vanno così Come vanno Vanno così come vanno Ma non c'entra nulla Con quello che Noi possiamo fare Rispetto a ciò Quindi come dicevo prima Una delle cose Più importanti E si riconoscere Che le cose Vanno Come vanno Tutti quanti vanno Così come vanno Ma ci sono Eventi che noi possiamo Gestire Eventi che noi Non possiamo gestire Quello che noi Possiamo gestire Cambia Tutto quanto Quello che non possiamo Gestire Perché quello Che non possiamo gestire Se noi Lo viviamo Con Con una Con una possibilità Di gestire Quello che possiamo gestire Cioè che Voglio dire Con questo Con questo concetto Che se noi Per quante cose Vediamo Nel mondo La guerra È quella Quella Quell'altro Non lo possiamo Gestire Tutti i giorni Ogni giorno Possiamo gestire Il nostro Stato Fisico Quindi possiamo Andare Tutti i giorni A fare Attività fisica Oppure tutti i giorni A stare sul divano È la nostra scelta La possiamo gestire Questo Possiamo gestire La nostra attività Mentale Stare tutti i giorni Con Davanti alla televisione A guardare Cazzate Dalla mattina Alla sera Programmi televisivi Serie tv Oppure Parlare con delle persone A cui Noi vogliamo Con cui noi Ci sentiamo Ci sentiamo bene Quindi condividere Una relazione Uscire per un Caffè Parlare con Un amico Con una persona nuova Online Offline Per conoscerla O leggere un libro O fare Che so Una Piccolo Una piccola escursione Fuori Dalla nostra Zona di comfort Quella è una Differente Una cosa differente Nello stare davanti A televisione Possiamo gestire Il discorso Di quello che Con 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 Quindi se Se ci stanno Persone con Con cui non Stiamo bene Possiamo Gestire queste Persone con Con cui non Stiamo bene Al punto di Tenerci lontano E stare con Chi invece Ci stiamo bene Con chi ci fa stare Ci fanno stare bene Con chi ci piacerebbe stare E diamo più attenzione A loro E diamo più ascolto A loro Cioè Alcune cose Queste cose qui Che già ho detto Fanno una grande Differenza Su La nostra vita Se Li prendiamo E li gestiamo In modo attivo E Anche se ci sono Delle cose Che non possiamo Gestire Controllare Non ci faranno Lo stesso Eh Come si può dire Fastidio O comunque Impatteranno così Tanto su di noi Se noi abbiamo Comunque Un potere Personale Attivo Rispetto alla Nostra vita Che possiamo Gestire Poi Un'altra cosa Che potrei dire Per quanto riguarda Dal passare Il Per poter passare Da spettatore A creatore Della nostra vita A livello professionale Soprattutto Lo dico Perché Quello di cui mi occupo È proprio Accompagnare Delle Degli esseri umani Che si ritrovano Magari Fermi A livello Professionale O comunque Insoddisfatti Non abbastanza felici Di come stanno andando Le cose E li accompagno A ritrovare Quella loro Visione Quella loro Anima Professionale Che li rende Soddisfatti Felici E anche Riconosciuti Nel mercato In cui vogliono Operare E gli faccio Ritrovare Il piacere Di poter Essere Quello che sono A servizio Degli altri Quindi Quando dico Passare Da spettatore A creatore È proprio Per Un messaggio Che voglio dare A chi In questo momento Di vita È proprio Una Come devo dire È in una situazione Di Di Cupo Di fermo Di Stanchezza Di proprio Confusione totale Di crisi Di identità Crisi Esistenziale Crisi professionale E sta fermo Non fa nulla Ed è bloccato Completamente Nella gira Nel prendere una decisione Nel Iniziare una nuova Attività Nel Creare un progetto A breve termine E portarlo a termine Nel stare su Un piano E seguirlo Sul mantenere Delle buone abitudini E allontanare Delle vecchie abitudini Che poi si vuole allontanare E non riesce a farlo Perché è crogiolato Dai pensieri Solo negativi E auto Distruttivi E quindi Finisce lì Finisce di stare In quello stato Poi Depressivo Che non Riesce più A Tirarsi su Se non Combina qualcosa Io credo che Ognuno di noi Abbia la possibilità Di poter fare Nella propria vita Quello che Desidera Ovviamente con etica Con responsabilità Con umanità E lo può realizzare Se ci sono questi Tipi di valori Alla base Di quello che Vorremmo fare E desideriamo fare Nella nostra vita Ed è possibile Realizzare Se ci sono Alla base Questi tipi di valori Quello che Non si riesce a fare Nella vita Senza Cadere Ovviamente Poi Si può fare Ma cadi Ovviamente Nelle mani Poi Della Della giustizia O delle Delle leggi O Del Del destino Se fai le cose In modo disonesto In modo Violento Quindi Realizzare le cose Con Una base valoriale Se ce l'abbiamo È possibile E oggi come oggi Non c'è più bisogno Di essere spettatore Della vita Perché Sono passati i tempi In cui Ognuno di noi Doveva aspettare Un'impresa Per poter Realizzarsi Dove aspettare Di fare Una Un percorso Di studi Ben preciso Per potersi realizzare Per Di avere La famiglia Dietro E il supporto Per potersi realizzare Di avere Le disponibilità Economiche A un certo Livello Per potersi realizzare Non serve più Tutto ciò Per poter iniziare Oggi con Grazie alla Rivoluzione Che c'è stata Con Tutto ciò Quello che conosciamo Oggi Su internet Che naviga Che gira Su internet Possiamo Avere Un'occasione Diversa Un'opportunità Diversa Di vita E questa Opportunità Diversa Non ce l'hanno Tutti Non ce l'hanno Tutti Perché non tutti Sono stati Educati A vederla Questa opportunità Siamo nati In un'epoca Soprattutto noi Millennials In cui era un passaggio Generazionale L'abbiamo visto Il vecchio mondo Il nuovo mondo Per questo A volte Proprio ai Millennials Si viene ancora Difficile Nel nuovo mondo Realizzarsi Il nuovo mondo Che intendo Il nuovo mondo È il mondo Del Web 3.0 4.0 Cioè Dell'interattività Dell'interazione Continua Dove Il digitale E dove L'online E l'offline Sono interconnessi Tra di loro Infatti si parla Non più di Digitale O di Offline Si chiama Dion Life Parlano di Questo concetto Si parla Appunto Di dove Ognuno Con il proprio Cellulare Diventa Il Regista L'attore Il protagonista Di un video Di un film Di Un documentario Cosa che Prima Nessuno Poteva avere A disponibile Così disponibile Come oggi Dove tutti quanti Oggi In Nella televisione Possono comparire Solo avendo Una connessione A internet Un cellulare Davanti a milioni Di persone Se hanno un messaggio Da dare E quel messaggio Lo sanno comunicare Con Con L'autenticità Soprattutto E ovviamente Anche con Il divertimento Perché abbiamo visto Quanto sono stati Sono andati Virali Dei video Divertenti E non solo Quindi Ognuno di noi C'è la possibilità Di poterlo fare E fermarsi A Ai piccoli Ostacoli Che pensiamo Di avere Perché Non Perché Magari Ci hanno detto O dicono Che per poter fare Questo Bisogna avere La telecamera X La stanza Y Il cellulare Z Bisogna avere Prima Dieci Clienti Esperienza Di un anno Tre anni Dieci anni Di vita Bisogna avere Prima Uno Due Tre corsi Una laurea Cioè Quando ti dicono Tutte queste cose qua E tu ci credi Per queste cose qui Non fai quello che Ti tocca fare Per poter Comunicare Con Con me Che sono Dall'altra parte Ti stai raccontando Solo Scusa Per non agire Scusa Che ti Stanno limitando E ti stanno Facendo vivere Da spettatore Non da creatore Quindi quello che Ti voglio dire Oggi è Se puoi Fare qualcosa Perché ti piace Fare qualcosa Nella vita Sicuramente E puoi farlo Fallo In qualche modo E non iniziare A progettare A lungo termine Una cosa Che dico sempre Inizia Dai piccoli passi Cioè Inizia a progettare Una cosa breve Che vuoi fare Che ti piacerebbe fare E magari la fai anche gratis Per qualcuno Però che sia A breve termine Affinché tu possa Sperimentare Mettere in pratica E essere anche entusiasta Di aver potuto Fare quello Che ti piacerebbe Ti piacerebbe fare Con qualcuno Che magari aveva Pure bisogno Di te E a breve termine Vedere come Ti trovi a fare Quel tipo di lavoro Se ti piace Se ti entusiasma I feedback Che ricevi Se ti danno Un feedback Che ti permette Di migliorare E di continuare Perché ti dicono Che ci sai fare Che i risultati Li porti Ovviamente Quindi A breve termine Quello che dico io Non fare il progetto A lungo termine Di tre mesi Quattro mesi Cinque mesi Dove ti trovi Un cliente Ti trovi Un'azienda Anche gratis Per le prime volte Ma Che ti permette A breve termine Di fare così Tante esperienze Di quello Che vuoi fare Di darti poi Del feedback Delle testimonianze Dei risultati Che hai dato E di migliorarti Continuamente Cioè Non ci vuole Un anno Perché questo Breve percorso Che fai Con qualcuno Che ti piacerebbe Con cui ti piacerebbe Lavorare Quindi sei tu Che ti offri A qualcuno Con cui ti piacerebbe Lavorare Ti permette Proprio di vivere Subito Quello che è Possibile fare Ogni giorno Un po' della tua vita Se lo vorrai Continuare a fare E lì Percepirai La potenza Che ognuno di noi Nella poter Essere soddisfatto Di quello che fa E dell'essere Anche d'aiuto A qualcuno Perché qualcuno Comunque Lo potrai aiutare Qualcuno Comunque c'è Che ha bisogno Di te Non tutti Siamo Allo stesso livello Di esperienze A livello di Capacità Di competenze A livello Di conoscenze Quindi Se tu c'è Una specifica competenza Competenza Conoscenza Tante conoscenze Soprattutto E se c'è Anche tante esperienze Se sei un trentenne Che ha fatto Un casino Di esperienze Corsi E esperienze Di vita Esperienze Lavorative Diverse Hai Sperimentato Tante Tante idee Delle filosofie Hai fatto Volontariato Su alcuni campi Hai conosciuto Un casino Di persone Diverse Ed interessanti Hai una rete Di contatti Con cui Ti confronti E molto Molto interessante Cioè Hai già Abbastanza Per poterti Anche Posizionare In qualche modo Con la tua visione Con il tuo modo Con la tua competenza La tua conoscenza In un mercato E dare Qualcosa Contribuire In qualcosa E offrire la tua competenza A beneficio di qualcuno A servizio della vita Di qualcun altro Se Ti va di fare Una cosa del genere Ricordo che io C'ho Un percorso Che Faccio appunto Con le persone Che vogliono Passare da Da una parte All'altra Come dico Adesso Da spettatore A creatore Con degli strumenti Adatti Per Iniziare Essere Ben organizzato Ed essere soddisfatto Di quello che si fa Perché non è Un percorso Che faccio Così Dato per scontato È un percorso Dal vivo Soprattutto Non Preregistrato Perché alcune Alcune cose Anzi Le migliori cose Arrivano Con un mentoring Dal vivo Cioè con Qualcuno Che ti fa da mentore Con qualcuno Che ti fa da coach Ti fa da counselor E tutto questo Lo faccio E l'ho sperimentato In prima persona Prima di poterlo Riconoscere Come un valore Che devo ricambiare Perché se negli anni Nei Dieci anni Un decennio A questa parte Sono stato Comunque Un freelancer Un piccolo imprenditore Un Giovane Intrapendente Che ha fatto Tantissime cose Dipendente per altri È collaboratore Eccetera Eccetera Quando Ho sperimentato Questa cosa qui Di essere Aiutato con Con affetto Dal vivo Con qualcuno Che è arrivato Un po' più avanti Di me nel percorso E mi fa da mentore Passo dopo passo Per raggiungere Un progetto Che voglio realizzare Mi sono reso conto Che questa cosa qui Mi ha aiutato Molto 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 Nel Avere più Chiarezza Di azione E anche Spirito di azione Non solo chiarezza Che la chiarezza Ce l'abbiamo Però a superare Quei blocchi Che da solo A volte Non si riesce A A superare E quindi Si rinuncia Ai propri sogni Ai propri desideri Ai propri progetti Ai propri Proprio Alla propria carriera E questo è un peccato Quindi Se hai possibilità Di metterti In discussione Di Avere un mentore Prova A pensarci Di fare Questo tipo Di esperienza Con qualcuno Con me Se non Con me Con qualcun altro Comunque Falla Perché Un conto è Fare corsi Un conto è Leggere libri Un conto è Studiare Università Un conto è Eccetera Eccetera Un altro è Iniziare a fare Con qualcuno Che ti Accompagna E Ti fa da spalla E ti supporta Nei momenti Di down Anche a livello Personale Oltre che A livello Professionale Ti dà Quegli strumenti Che lui ha Sperimentato In tantissimi anni E Magari Sono strumenti Che lui ha dovuto Dopo dieci anni Ha potuto Dopo dieci anni Riconoscere Come Strumenti Validissimi Cioè il succo Di quegli strumenti Dopo tanti anni Di esperienza Te li può dare E ti può dare Il vero valore Non qualcosa Di copiato e incollato Ma qualcosa Che ha sperimentato In prima persona Lui Quindi anche quando Vai alla ricerca Di qualcuno Cerca di qualcuno Che ti ha dato Ti dà Un'esperienza Soprattutto di vita Personale E poi Ti trasmette Uno strumento Un metodo O dei strumenti Dei metodi Che siano Sulle tue corde Che ti suonano Con i tuoi valori Soprattutto Non con I numeri Che tu desideri Raggiungere Il livello di fatturato Quando ti parlano Ti aiuta a raggiungere 10.000 euro Di fatturato Magari Quando ti parlano Ti raggiungo Raggiungere 20 clienti Al mezzo Ma ti stanno E ti stanno parlando Solo di questo Fai attenzione Perché Stanno toccando Uno dei Tasti più deboli Che abbiamo noi Come esseri umani Quello Di voler Raggiungere Il successo Essere liberi A livello Di Proprio Di solito Sono un nutrimento Quindi di Avere abbondanza Proprio di pancia E quando ti parlano Di soldi Quando ti parlano È come se Ti dessero Un piatto Di dolci Squisiti Ti offrissero È normale Che il tuo cielo Dica Sì Voglio questo Ma quelli Sono piatti Dolci Squisiti Che Finito Poi Rimarrai Semplicemente Con il desiderio Di volerne Sempre di più Ma A livello Nutrettivo Non è che Ti danno Tanto Non ti Rigenerano Il corpo Cerca invece Chi ti offre Dei valori Chi ti offre Degli alimenti Che siano Genuini Che siano Nutritivi Per il tuo corpo Per la tua mente Non Prendere Invece Coloro Che ti fanno Solo Desiderare Cose Vane Spero di Non essermi Prolungato Comunque Penso di aver detto Tante cose Questa sera Che ho avuto La fortuna Di poter registrare Sì Ho avuto la fortuna Di poter registrare Perché non sono sempre Libero di poter registrare E non ho sempre Disponibile La stanza Di casa mia Qui Dove Posso Registrare In questo modo Con la Pace dei sensi Bene Detto questo Se ti va Di lasciarmi Un commento Per Dimmi Cosa ne pensi Di quello Che ho appena Detto In questo video Vi ringrazio Mi dai un feedback E miglioro Ciao Ciao